Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video su Metro Lost Light Redux DLC E vediamo L'ultima volta abbiamo fatto squadra pesante Aspetta eh Xatria Xatria E oggi andremo sulla squadra Cicchi Sopravvivenza Normale Difficile Vabbè, facciamo la normale Devo distruggere un avamposto imperialista E infiltrarmi nella stazione della Cernaia Questa volta viene con me uno dei nostri esploratori Ma ha una sua missione da svolgere Quindi la guarderemo quasi sempre ognuno per conto suo Mi sembra giusto Ci siamo quasi Dicono tutti che sei un ottimo tiratore Sì Ora hai la possibilità di dimostrare Che cavolo Cosa stai facendo Ti darei qualche consiglio Ma sono sicuro che sai come si usa Eh sì Lo so perfettamente Chissà cosa c'è qui Che ho fatto Merda C'è mancato poco che ci scoprissero Beh, siamo comunque in posizione Il nostro obiettivo principale è di entrare nella stazione della Cernaia Per farlo dovrai sgombrare tutta l'area ed entrare nell'edificio Una volta lì devi eliminare tutte le guardie Mentre io nel frattempo completo il mio obiettivo Una volta finito ci incontreremo all'entrata della stazione Ok Allora, per prima cosa faremmo meglio sgombrare il tetto e le torri Poi potremmo occuparci delle pattuglie Il tetto Uh, squadra a cecchini Che figata Grande Vediamo il tetto e le pattuglie Oh shit Mentre ricarico Eppure qual colpa era andato bene Cioè l'ho pre... Ma... Va bene Nessuna campana Stai tranquillo zio Altri? A quanto pare qui abbiamo finito Ora devi raggiungere quell'edificio Quale? Perché è così il led? Ok Ok Quindi siamo dei rossi Sì, no, giusto Quindi siamo dei rossi Come diavolo faccio a saperlo E poi che fretta c'è Che fretta c'è Sta arrivando una tempesta Ecco che c'è Fuori da mezzo Buongiorno Ok Ok Due sono fuori dai giochi Tre Perfetto 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 Ma la maschera La maschera non mi serve Oh si Lo sentiamo Si Via 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 Maschera maschera Oh munizioni Grande Grazie Buono Buono così Buono così Buono così Non c'è il tasto per uccidere Va bene anche così Va bene anche così C'è una tempesta fuori Ma dai C'è una tempesta fuori Spendio I rossi hanno attaccato la nostra centrale elettrica Giravoce che avessimo catturato una spia dei rossi E l'avremmo consegnata lì E quegli stronzi hanno mandato un intero battaglione per salvare Le ci hanno dato dentro Così prima che il nostro uomo si rendesse conto di quello che stava succedendo I rossi hanno preso la spia e sono scappati per le catacombe Sì ragazzi sono un attimo incidente perché sto cercando cosa scusate L'ho concentrato Dunque Grazie per la bella notizia Prego Va bene vai avanti Io vado a dare un'occhiata ad Alex Ah finalmente Una maschera nuova Vai a dare un'occhiata ad Alex tu vai Uh dolore E Alex sta vibrando Alex tra Qua non c'è niente Di niente Ok Di qua c'è una luce rossa che non mi piace Beccato Ok Uh Scala per salire però Questa porta Sono quella in cui sono arrivato Mi sa di no O si No Ehi Hai sentito dell'evasione dalla nuova prigione Sono solo strozza Ci ho prestato servizio sorvegliando i prigionieri che l'hanno astruita Non sono andato ad uscire da un po' Sai che cosa bollete? In che senso? Qui non bolle però Ehi Ehi Zia non è niente Tranquillo Uscito Tu non avevi niente Neanche la munizione guarda me Grazie Una cassetta Ahah Si rompe sopra Bene 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 Questa è bloccata Questa è bloccata Uno sta arrivando qua Perfetto Anzi no Si è fermato Non ci sono andato Quindi Questa è bloccata Non ci sono i nostri In questo Non ci sono i nostri e quindi Voi Forse Siamo molto stelti oggi Molto stelti No non sono al pianoforte Sennò mi paccano male qua E niente Non esiste più Mi dispiace Ottimo così Ci sta andando benissimo Bloccata Dunque ho visto una salita qua Tipo What? Ehm Va bene Perché? Come ci arrivo lì? Forse dovrò salire anche al po' Oh Dio Dio me la son vista all'ultimo Cambio, cambio Bella visuale da qua Dunque sono uno lì Questo che da solo per qui Poff Due, tre Quattro Cinque Due, due, sei, sette, otto e nove Interessante Dove vai? Dove vai? Vorresti Dunque vediamo Dunque vediamo Lui Lui Ma è questo E questo Lui E lui Altri sembra che non ce ne siano Perfetto Agganci Agganci Sì Ehm 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 Siamo entrati, bene, diamoci dentro e lasciamo qualche bel ricordo di noi a quegli imperialisti, seguimi Questo era quindi DLC, squadra a cecchini, non male, dai, è carino No, vediamo gli altri Pacchetto torre Nido dei ragni Ok, la prossima volta ragazzi faremo pacchetto torre, vi lo mostrerò perché non credo sia una missione E nido dei ragni, deve essere una cosa schifosa al massimo Poi sviluppatore, se ce la faccio, Pavel Khan e Anna Bene ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video, spero vi sia piaciuto, ciao a tutti